Nella lezione precedente ci siamo salutati dopo aver introdotto le alternative e aver visto come indicare all'interprete cosa considerare alternativa e cosa non. In questo video riprenderemo in mano il discorso per poi passare all'argomento classi di caratteri. Buona visione! Come abbiamo visto è possibile definire con precisione cosa considerare parte di un'alternativa all'interno di un'espressione regolare racchiudendo le sequenze di caratteri interessati all'interno delle parentesi tonde. Nell'esempio troveremo corrispondenza sia con la sequenza weekend con trattino sia con la sequenza weekend con lo spazio ed infine con la sequenza weekend senza spazio né trattino poiché abbiamo indicato tramite il quantificatore punto interrogativo che il gruppo precedente in questo caso il gruppo di alternative può ripeterci da zero a una volta ovvero è opzionale. Tutto ciò è bellissimo e utilissimo certo ma immaginate ora di avere la necessità di individuare all'interno di una stringa qualsiasi carattere dall'a alla z. Beh funzionare funziona però diciamo che non è proprio il massimo ma fortunatamente esiste un metodo nettamente migliore per ottenere il medesimo risultato ovvero utilizzare le classi di caratteri. Per creare una classe di caratteri bisogna aprire le parentesi quadre ed inserire al loro interno i caratteri desiderati. Nell'esempio cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo creato una classe di caratteri che comprende tutti i caratteri nel range a z minuscolo. L'espressione regolare trova quindi corrispondenza se la stringa contenuta nella perl favorite default inizia con un qualsiasi carattere alfabetico minuscolo. Eseguiamo lo script e come previsto abbiamo in output frase valida poiché la stringa inizia con la c minuscola. Se si prova però ad inserire un carattere alfabetico maiuscolo all'inizio della stringa frase non valida poiché abbiamo la c maiuscola come lettera iniziale. Per espandere il range della nostra classe di caratteri basta aggiungere semplicemente un altro range di caratteri subito dopo il range esistente. In questo modo abbiamo incluso un secondo range che comprende tutti i caratteri alfabetici maiuscoli. Quindi adesso la nostra espressione regolare dovrebbe trovare corrispondenza con qualsiasi stringa che inizi con un qualsiasi carattere alfabetico maiuscolo o minuscolo. Eseguiamo lo script per conferma e infatti abbiamo in output frase valida. Ma così come è possibile indicare del range di caratteri alfabetici è possibile anche specificare del range di caratteri numerici. Nell'esempio ho creato un semplice script che legge da input di tastiera e salva il tutto dentro la variabile pin. L'espressione regolare che abbiamo scritto cosa fa? Trova corrispondenza con la stringa salvata nella variabile pin se la stringa è composta esattamente da sei caratteri numerici. Ma analizziamo meglio l'espressione regolare. abbiamo creato una classe di caratteri e abbiamo specificato al suo interno il range numerico da 0 a 9 e successivamente abbiamo stabilito il numero preciso di ripetizioni della classe appena creata utilizzando questo quantificatore definito. Non ci resta che provare lo script. Primo tentativo inseriamo 1 2 3 4 5 e 6. Pin inserito 1 2 3 4 5 e 6 è valido poiché rispetta tutte le condizioni ovvero è composto da sei caratteri e tutti i caratteri sono caratteri numerici nel range da 0 a 9. Quindi ci siamo. Come secondo tentativo inseriamo 1 2 3 4 5 6 e 7. Non valido perché pur essendo composta la stringa interamente da caratteri numerici è lunga sette caratteri anziché sei come specificato nel quantificatore. Ora proviamo ad inserire ciao 1 2. Ciao 1 2 non è valido perché il pin come abbiamo detto deve essere composto interamente da caratteri numerici. Ed infine proviamo 1 2 3 4. Anche in questo caso il pin non è valido poiché è sì composto interamente da caratteri numerici però è lungo solamente 4 caratteri anziché sei. È inoltre possibile escludere un set di caratteri utilizzando l'accento circonflesso. Nell'espressione regolare che vi ho preparato si trova corrispondenza con qualsiasi stringa che non abbia come carattere iniziale un valore numerico. Da notare che se l'accento circonflesso si trova all'interno di una classe di caratteri significa escludi il seguente set di caratteri. Mentre se si trova all'esterno rappresenta l'ancora di inizio stringa. Quindi attenzione. Altro esempio. Cosa stiamo cercando di ottenere con questa espressione regolare? Si cerca corrispondenza con i caratteri i o trattino o n. Poiché tramite l'utilizzo del backslash abbiamo indicato all'interprete di considerare il trattino come semplice carattere anziché come operatore di range. Infatti se si esegue lo script frase valida poiché trova corrispondenza. Se si tolgono tutti i caratteri della classe dalla stringa e si riesegue lo script frase non valida. Poiché non viene trovata alcuna corrispondenza né con il carattere i né con il trattino né con il carattere n. Pensate che alcune classi di caratteri sono talmente utilizzate che gli sviluppatori del Perl hanno ritenuto necessario inserire degli shortcut per richiamarle direttamente senza bisogno di scriverle ogni volta a mano. Ho riscritto pari pari lo script che vi ho mostrato poco fa sostituendo la classe di caratteri numerici che avevamo creato che copriva il range da 0 a 9 con il relativo shortcut. Lo shortcut backslash più di minuscola viene interpretato come classe di caratteri numerici da 0 a 9. Infatti l'espressione regolare troverà anche in questo caso corrispondenza con una stringa composta da esattamente sei caratteri numerici da 0 a 9. Generalmente la forma con lettera maiuscola di questi shortcut indica la rispettiva negazione. Utilizzando infatti lo shortcut backslash più di maiuscola l'espressione regolare troverà corrispondenza con una stringa composta esclusivamente da sei caratteri non numerici. Ovviamente esistono diversi shortcut di questo genere. Vi lascio il link in descrizione così ve li andate a spulciare. Prima di salutarci volevo parlarvi delle ancore di parola. Queste ancore sono composte da backslash più b minuscola e servono a stabilire l'inizio e la fine di una sequenza. Nell'esempio si cerca corrispondenza con la sequenza capo contenuta nella variabile parola. Se si esegue lo script nessuna corrispondenza trovata perché l'espressione regolare cerca all'interno di parola la sequenza inizio capo fine. Quindi non trova corrispondenza perché? Perché capo redattore contiene sì capo ma continua corredattore quindi non soddisfa le condizioni di matching. Se aggiungiamo capo stavolta corrispondenza trovata poiché viene trovata la sequenza inizio capo fine. D'ora in poi vi consiglio caldamente di utilizzare le ancore di parola anziché quelle di inizio e di fine stringa quando avete questo tipo di necessità riservando quest'ultime per determinare effettivamente cosa si debba trovare all'inizio e alla fine di una stringa. E con questo è davvero tutto. Lascio il link per il download degli esercizi in descrizione e vi invito in caso di dubbio o domande a lasciare un commento. A risentirci!